Quello che faceva Gesù non era soltanto un cambiamento, da brutto in bello, da cattivo in buono. Gesù ha fatto una trasformazione. Non è problema di far bello, non è problema di maquillage, di trucco. Ha cambiato tutto da dentro. Ha cambiato con una ricreazione. Dio aveva creato il mondo. L'uomo è caduto in peccato. Viene Gesù a ricreare il mondo. E questo è il messaggio. Il messaggio del Vangelo, che si vede chiaro, no? Prima di guarire quell'uomo. Gesù perdona i suoi peccati. Va lì, alla ricreazione. Ricrea quell'uomo. Da pecatore ingiusto lo recrea come giusto. Lo fa nuovo, totalmente nuovo. E questo scandalizza. Questo scandalizza.